E poi di nuovo passa dalla terza lente nella prima. Allora a questo punto di passaggio noi otteniamo l'educazione e capiamo come trasformare questa realtà informativa che abbiamo creato insieme al creatore in una realtà fisica, materiale. La gioia di Dio ci permette di trasformare, di fare questa transizione dell'obiettivo di controllo dalla realtà informativa nella realtà fisica. E poi quando vediamo come parte dalla terza lente nella prima, entra dalla terza lente nella prima, noi così conosciamo la gioia di Dio, la felicità di Dio. E vediamo che l'amore di Dio, la gioia di Dio entra come un impulso interiore all'interno della nostra piccola lente. E poi vediamo come il nostro impulso si sta muovendo insieme all'immagine del mondo, tutto luminoso, tutto illuminato, in senso anti-orario, quindi attraversando le lenti. Quando vediamo quindi il movimento del nostro obiettivo di controllo che attraversa le lenti, noi capiamo che questa è la gioia di Dio, è la felicità di Dio che sta muovendo il mondo, che sta cambiando il mondo. Dio, è la felicità di Dio.